Importantissima notizia annunciata dal sindaco di Cicerale Gerardo Antelmo in anteprima e in diretta sulla nostra emittente riguardo alla ricerca sul covid-19. Infatti il comune di Cicerale ieri mattina ha firmato un protocollo d'intesa con il dottor Paolo Ascierto, oncologo e ricercatore, ma soprattutto ideatore della prima cura sperimentale italiana contro il coronavirus, quella del farmaco antiartrite Tocillizumab e con la sua fondazione la melanoma onlus al fine di incentivare la ricerca sul vaccino per il covid-19. L'accordo firmato con il comune di Cicerale è il primo accordo fatto dalla melanoma onlus con un comune italiano e prevede oltre a un incentivo economico dato dall'amministrazione ciceralese alla fondazione per la ricerca sul vaccino italiano del virus anche la tipizzazione della popolazione del comune cilentano. La tipizzazione prevede tramite un prelievo di sangue il tracciamento del profilo genetico della persona e in questo particolare caso dei recettori ACE2, recettori ai quali si attacca il coronavirus. Abbiamo firmato questo protocollo per fare che cosa? Uno per contribuire al vaccino, c'è un vaccino italiano che è in fase avanzata e ovviamente nessuno può dare tempi per, insomma, tempi nei quali sarà sicuramente disponibile, ma questo è il primo punto del protocollo di inglese. Il primo di Cicerale ha dato un contributo per il vaccino. La seconda è una donazione modale. La seconda cosa molto importante, abbiamo chiesto, abbiamo stabilito la tipizzazione della popolazione perché in una popolazione soprattutto piccola se si va a tipizzare geneticamente la popolazione si riesce a comprendere, si riesce a capire quali sono le fasce, quali sono le persone più esposte e meno esposte al, più o meno inesposto appunto a questo virus che si lega ai recettori dell'ACE2. E quindi se andiamo a tipizzare la popolazione sulla espressione dell'ACE2 dal punto di vista genetico, probabilmente potremmo individuare nell'ambito della popolazione la percentuale che sarà molto alta, perché il virus poi attacca tutte le persone, la percentuale di persone che sono più a rischio di altre e quindi poter affrontare con maggior cognizione di causa l'emergenza andando a proteggere tutti ovviamente, ma innanzitutto le persone che sono più a rischio perché hanno appunto questo tipo particolare genetico.